I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Teramo hanno sgominato una banda composta da tre terramani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti che sono finiti in manette. Inoltre sono state denunciate altre 16 persone. Gli arrestati rifornivano la città di Teramo di eroina, ascisce e metadone. Le indagini sono partite un anno fa dopo l'arresto di un pregiudicato tossicodipendente. Da qui è scattata l'attività d'indagine sul mondo della tossicodipendenza terramana nel corso della quale sono state sottoposte a controllo oltre 100 persone ed è stata scoperta una fitta rete di spaccio di eroina, ascisce, crack, metadone e anche di cocaina. I primi arresti vennero effettuati a Cassino all'uscita del casello autostradale della 1 dove i carabinieri fermarono un uomo di 52 anni e la convivente di 46 anni entrambi di Teramo. Gli stessi di ritorno da Napoli furono trovati in possesso di 96 bussolotti contenenti complessivi 90 grammi di eroina destinati al mercato terramano. L'operazione portò al sequestro complessivo di 120 grammi di sostanza stupefacente. Gli arrestati che effettuavano dei 4 e 6 viaggi mensili a Napoli rifornivano i tossicodipendenti di Teramo e circondario di oltre un chilogrammo di eroina pura. La conclusione dell'attività investigativa condotta con il sostituto procuratore della Repubblica Greta Luisi ha convinto il GIP Giovanni De Renzi a demettere tre ordinanze di custodia catelare nei confronti dei tre terramani ritenuti maggiori responsabili dello spaccio mentre sono state denunciate 16 persone di cui 11 di Teramo, città e 5 del circondario tutte con precedenti penali specifici. Grazie a tutti. Grazie a tutti